Musica Buonasera, ben ritrovati negli studi del TG2000. Il vaccino contro il Covid sia per tutti in apertura l'appello del Papa che aggiunge l'emergenza sanitaria è diventata anche una grave crisi economica. Paolo Fucili. E sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi o se questo vaccino diventasse proprietà di questa o quella nazione e non fosse più per tutti. Dovrà essere universale per tutti. Papa Francesco parla di pandemia, di coronavirus e povertà farmaceutica preoccupato del divario fra popoli e paesi anche nell'accesso ai farmaci che uccide ancora troppi bambini nel mondo, accusa. Ma se una malattia si può curare perché il farmaco o il vaccino per curarla esiste? Questo dovrebbe essere disponibile per tutti, altrimenti si crea un'ingiustizia. Udienza oggi al banco farmaceutico che da vent'anni fornisce ai poveri medicinali raccolti e distribuiti mettendo in rete aziende, farmacie, volontari ed enti di beneficenza. La pandemia, osserva Francesco, si sta tramutando in una grave crisi economica che genera ancora poveri e famiglie che non sanno come andare avanti. E i 200 dirigenti e volontari del banco arrivati oggi a Roma confermano. Ci preoccupa il fatto che ci sia un'onda lunga quando cesserà il blocco dei licenziamenti, quando la cassa integrazione fin quando durerà. La Caritas, per esempio, da noi già ci dice che si aspetta un cambiamento verso l'autunno dove davvero emergeranno nuovi bisogni, un aumento dei bisogni. Il Covid in Italia, 1638 i nuovi positivi e impennata di vittime 24 nell'ultima giornata. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio e la maggior parte delle vittime sono in Lombardia. Allora, intanto a Palermo le missioni di Fratel Biagio Conte sono state dichiarate. Zone rosse. Letizia Davoli. Nel giorno in cui il numero dei contagi da Covid cala di 300 unità, scendendo da oltre 1900 a 1638 positivi e in cui si registrano quasi 1000 guariti, aumenta invece il numero dei morti che passano dai 10 di ieri a 24. 215 le persone ricoverate in terapia intensiva, numeri che vanno letti inserendoli nel quadro delineato dall'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che segnala un'età media di positivi che sale da 35 a 41 anni e il 35% dei contagiati con oltre 50 anni, l'età da cui l'infezione inizia ad avere conseguenze anche gravi. Una situazione che ancora non preoccupa ma che va monitorata con molta attenzione, mentre sembrano esplodere in tutta Italia nuovi focolai che si aggiungono agli oltre 2000 censiti ieri. Dal mercato del pesce di formi alla cittadina di Bagheria in Sicilia il virus sembra essere tornato più minaccioso di prima. Proprio in Sicilia, Palermo, il sindaco Orlando ha denunciato l'irresponsabilità di chi in città non osserva le regole diffondendo il contagio, mentre il governatore Musumeci ha istituito tre zone rosse attorno alle missioni di fratel Biagio Conte dove è scoppiato un focolaio in rapidissima crescita tra migranti e senza fissa dimora che però rifiutano di restare confinati nel centro. Due missionari sono dovuti ricorrere alle cure dei medici e si trovano in ospedale con un principio di polmonite. Dai virologi li invito, ora più che mai, a non abbassare mai la guardia e a osservare rigorosamente le regole mascherina, igiene e distanziamento. Il coronavirus preoccupa anche il resto del mondo. È il record di casi in Germania. La Spagna chiude alcune zone rosse di Madrid, mentre a Londra si scatenano proteste anti-lockdown. Il servizio è di Antonio Soviero. Corre il contagio in Europa e sempre più paesi affrontano nuove e drastiche restrizioni alla mobilità per scongiurare gli effetti devastanti della prima ondata della pandemia. In Spagna, dopo i 14.000 nuovi casi di ieri, da lunedì scatterà il lockdown in 37 distretti della regione di Madrid dove il tasso di diffusione è il doppio della media nazionale. L'accesso ai parchi e alle aree pubbliche sarà limitato e gli esercizi commerciali dovranno chiudere entro le 22. La polizia sarà schierata in strada per far rispettare le nuove disposizioni che riguarderanno 855.000 persone. In Francia, nonostante 13.498 casi registrati, tra cui il ministro dell'economia Bruno Le Maire, riaperto al pubblico nel fine settimana il palazzo presidenziale dell'Eliseo. Al di là della manica, la Gran Bretagna segna il secondo record in due giorni, più 4.422 casi, 100 in più di ieri. A Londra, uno migliaio di persone manifesta contro il lockdown. Record di nuovi contagi anche in Germania. Nel mondo sono più di 30 milioni e mezzo i contagiati e oltre 953.000 i morti. Con la trend attuale, le vittime saranno presto un milione. In testa sempre Stati Uniti, Brasile e India, che insieme hanno più della metà dei casi Covid-19 totali. In Bielorussia si è tornato a marciare le strade della capitale Minsk. Sono state invase da donne che hanno protestato contro Lukashenko. Gli automobilisti suonavano il clacson per segnalare il loro sostegno. Alla fine, più di 140 persone, secondo i media locale, sono stati fermati dalla polizia. Ed è tutto pronto. Torniamo in Italia per andare a votare, anche se non mancano le polemiche e il caos. Oggi tanti scrutatori hanno rinunciato ad aprire i seggi per paura del Covid. Il Comune di Milano ha addirittura lanciato un appello via social per reclutarne nuovi. Domani e lunedì comunque le urne saranno aperte per le elezioni regionali e il referendum. Augusto Cantelli. Tutto in due giorni. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Urne aperte per referendum confermativo, voto regionale, amministrative e suppletive in Sardegna e Veneto. Sono oltre 46 milioni e mezzo gli elettori chiamati ad esprimersi per il referendum costituzionale che prevede la diminuzione del numero dei parlamentari. I parlamentari al momento sono 945. In caso di vittoria dei sì, il numero scenderebbe a 600, ovvero a 400 deputati e 200 senatori. Non è richiesto alcun quorum. Si vota anche in 7 regioni una statuto speciale la Valle d'Aosta che legge il Consiglio regionale 6 a statuto ordinario Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Prevista la preferenza di genere e a parte le Marche il voto disgiunto sia la possibilità di scegliere una lista insieme un candidato presidente di un'altra coalizione. Al voto anche circa 1000 comuni tra cui 15 capoluoghi di provincia e 3 di regione. Oltre al documento e alla tessera elettorale questa volta si deve portare anche la mascherina le persone anziane più deboli potranno saltare la fila ai seggi. A Como adesso dove Cardinal Krajewski ha preseduto la celebrazione in soffraggio di Don Roberto il sacerdote ucciso a coltellate da un senza tetto ed è anche all'assassino di Don Roberto che l'elemosiniere del Papa ha donato un rosario. Pierluigi Vito. Vi porto un saluto e un abbraccio fraterno da parte del Santo Padre. Lui sta con noi. È la vicinanza di Francesco quella che il Cardinal Krajewski è venuto a testimoniare a Como. È stato lui il braccio delle opere di carità del Papa a presiedere la celebrazione eucaristica in soffragio di Don Roberto Malgesini Il prete degli ultimi, ucciso martedì mattina pare da una persona a cui il sacerdote prestava abitualmente aiuto. Don Roberto è morto quindi vive l'amore non muore mai la pagina che non si può strappare mai dal Vangelo ci ricorda non c'è amore più grande di questo dare la vita per i suoi amici E i poveri hanno occupato i primi posti nella cattedrale di Santa Maria Assunta mentre tanta altra gente si è radunata ai Maxi Schermi in tre piazze della città per onorare la vita e la morte di un martire della misericordia che ha fatto dei diseredati il cuore del proprio ministero con una serenità e una semplicità invidiabili come ha ricordato nell'Omelia il Vescovo di Como Monsignor Cantoni oltre all'omaggio del Papa il Cardinal Krajewski ha portato anche dei losari andranno ai volontari che continueranno l'opera di assistenza di Don Roberto ai bisognosi compreso il presunto assassino ora in carcere e ai familiari del sacerdote ucciso lo stesso cardinale ne ha consegnato uno ai genitori di Don Roberto impossibilitati a partecipare alla messa Dopo la celebrazione vado al vostro paese a portare ai vostri genitori e a baciare le mani al nome del Santo Padre Trent'anni fa l'assassinio per mano della mafia del giudice Rosario Livatino che oggi è stato ricordato dalle massime autorità dello Stato Caterina Dall'Olio Aveva appena compiuto 37 anni il giudice Rosario Livatino quando la Ford Fiesta su cui viaggiava per raggiungere il tribunale di Agrigento venne affiancata da un commando mafioso di quattro sicari era il 21 settembre 1990 assassinato a sangue freddo perché le sue indagini stavano dando fastidio alle cosche di Port Empedocle e di altre organizzazioni come la Stidda in contrasto con Cosa Nostra la magistratura grigentina ricorda la figura del giudice a 30 anni dalla sua uccisione nell'aula del tribunale che porta il suo nome sono intervenuti fra gli altri anche il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e l'Arcivescovo di Agrigento Cardinale Francesco Montenegro che sta seguendo in prima persona il processo di beatificazione del giudice bambino quando oggi si parla di crisi di credibilità della magistratura comprensibilmente se ne parla però io credo che sia opportuno per tutti i cittadini ricordare che cosa ha rappresentato e rappresenta la magistratura in termine di baluardo di difesa della libertà, della democrazia quello che ha rappresentato la magistratura nella lotta alla mafia nella lotta al terrorismo nell'applicazione concreta dei principi della nostra Costituzione Un periodo, quello a cui fa riferimento Di Matteo in parte ancora oscuro ogni anno arrivano poche scarne informazioni in più che non bastano a completare il quadro C'è ancora da fare uno sforzo capire chi c'è dietro delitti eccellenti, stragi eccellenti fare ancora uno sforzo per democratizzare la conoscenza di questo paese Stadi di nuovo aperti al pubblico e campionato di Serie A partito oggi di nuovo con i tifosi sugli spalti ma è caos come ci dice Federico Plotti Tifosi sì, tifosi no, tifosi forse si apre all'insegna delle polemiche il campionato di calcio da un lato la Serie A dall'altro il ministro dello sport Spadafora sulla questione degli stadi aperti siamo stati lasciati da soli nessuno ci ha mai interpellato dice il presidente della Lega d'Alpino denunciando una colpevole indisponibilità al dialogo da parte del governo le sale cinematografiche hanno riaperto in musei anche, in estate pure le discoteche ma per gli stadi nessuno ci ha ascoltato dice ancora D'Alpino eppure già a luglio la Lega aveva presentato un dossier su come aprirli in sicurezza ovviamente per un numero contenuto di spettatori è chiaro che il mondo dello sport a seconda della competizione del luogo, indoor, outdoor, le dimensioni dell'impianto si augura che il prima possibile ci siano dei segnali in questo senso per ovvi motivi e la decisione del governo di renderli fruibili per un massimo di mille persone subito cavalcata da diversi governatori dall'Emilia Romagna alla Lombardia fino al Veneto è arrivata troppo tardi secondo D'Alpino e così tra oggi e domani nonostante la possibilità per alcuni stadi di aprire i cancelli in pochi lo faranno come tra poco il Bentegodi di Verona che ospiterà la partita tra Ellas e Roma nonostante l'ordinanza del governatore Veneto Zaia resterà chiuso troppo poco tempo per organizzare un ritorno anche se molto parziale la sensazione è quella di navigare a vista forse sarebbe stato più utile prepararsi prima il tempo c'era ricordando sempre che il calcio non è solo uno sport ma anche un comparto che muove milioni di euro ogni anno e che dà lavoro a decine di migliaia di persone e domani si celebra la tredicesima giornata nazionale della sclerosi laterale amiotrofica una giornata che illuminerà di verde il colore della speranza tante città italiane Fabio Bolzetta Una luce verde per illuminare la speranza dal Tempio di Atena nel sito archeologico di Pestum sino alla Fontana del Tritone a Roma in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani centinaia di monumenti in tutta Italia si accenderanno questa notte alla vigilia della tredicesima giornata nazionale sulla SLA promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Il verde, oltre a essere il colore di Aisla fondata 37 anni fa e oggi impegnata in 64 rappresentanze territoriali è un richiamo alla speranza per una malattia dalle cause ancora sconosciute ma con un fattore preponderante nella genetica e che in Italia colpisce circa 6.000 persone Luci ma anche sapori 300 volontari nelle principali piazze di tutta Italia raccoglieranno fondi per beneficenza attraverso la vendita di 12.000 bottiglie di barbera d'asti per un contributo, dichiarano gli organizzatori versato con gusto e che diventerà il mosto di un aiuto concreto donato per favorire l'assistenza di persone con SLA Il miracolo di San Gennaro questa mattina si è ripetuto il prodigio della liquefazione del sangue a darne l'annuncio il cardinale Sepe che ha detto nell'anno della pandemia abbiamo atteso questo segno molto più di altre volte Luigi Ferragliolo Il sangue di San Gennaro si scioglie pochi minuti dopo le 10 salutato dallo sventulio dei fazzoletti della deputazione il cardinale Crescenzio Sepe con l'ampolla del santo in mano è emozionato forse più di ogni altra volta è un prodigio particolare il sangue si è sciolto al tempo del coronavirus e Napoli è più serena ora in cattedrale non potevano esserci molti fedeli essendo lo spazio contingentato ma la curia ha organizzato postazioni nella Basilica di Santa Restituta sul Sagrato dirette televisive e tutti nonostante il virus hanno potuto assistere al prodigio dopo il lockdown ci stiamo rendendo conto che davvero niente è più come prima dopo esserci come dice Papa Francesco esserci illusi di poter vivere da sani in un mondo ammalato il miracolo di San Gennaro come sempre ha richiamato grande attenzione nel capoluogo partenopeo nella cattedrale nonostante il distanziamento c'erano tutte le autorità campane dal sindaco di Napoli al governatore Vincenzo De Luca il 20 settembre di 150 anni fa le truppe italiane conquistavano Roma la breccia di Porta Pia metteva fine al potere temporale del pontefici e concludeva il processo di unificazione della nazione sotto i Savoia del significato e delle conseguenze di questo momento per la politica e per il cattolicesimo Antonello Carvigiani ne ha parlato con alcuni storici con i bersaglieri che entrano a Porta Pia si compie la conquista italiana di Roma e la fine del potere temporale ritenuto dal Papa essenziale per la sua libertà e per la sua missione una questione accanto all'opposizione al liberalismo che condurrà i cattolici italiani fuori dalla politica l'Italia appena unificata con il 20 settembre si trovò divisa profondamente finivano le opportunità del dialogo e la scomunica papale sul risorgimento faceva piombare tutti quei cattolici che avevano partecipato alla costruzione di un mito nazionale in un vasto dramma spirituale come disse Stefano Iaccini non che la frattura fosse totale figure anche importanti come Manzoni non abbandonarono i loro posti nel caso di senatore del regno ma i militanti si organizzarono in un astensionismo elettorale più rigoroso e il movimento cattolico che doveva lentamente nascere nella società con forme moderne si sentì fuori dalle istituzioni statuali problemi nacquero anche da parte italiana tra le questioni aperte la prima è la questione pontificia cioè lo status del pontefice in un contesto internazionale la seconda è la questione di Roma cioè il fatto di riuscire a far convivere a Roma sia appunto il Papa della Chiesa Universale sia il Parlamento sia la Corte del Re la terza questione è la questione del movimento cattolico in Italia questioni che hanno segnato la presenza cattolica in Italia superate molto lentamente oggi credo che tutti i laici cattolici possiamo ricordarlo positivamente e con gioia fu il momento in cui si è compiuta l'unificazione territoriale del paese ma è anche il momento fu anche il momento in cui la Chiesa si liberò finalmente del pesante fardello del potere temporale sta volgendo a chiusura il Salina Doc Fest ultimo giorno domani del festival internazionale del documentario narrativo che dal 18 settembre è ospitato all'Orto Botanico di Roma il festival come detto chiuderà domani sera con lo spettacolo teatrale di Davide Enia l'abisso, un canto per i morti del Mediterraneo su TV2000 invece questa sera da non perdere il documentario Semi di Speranza alle 22.50 l'opera che ricostruisce le vicende dell'ecidio nazista del 43 a Boves ieri la presentazione in anteprima nel paesino della provincia di Cugna Piazza aggremita pur nel rispetto delle norme anti-covid ieri sera a Boves per l'anteprima nazionale alla presenza del direttore di TV2000 Vincenzo Morgante del documentario Semi di Speranza curato per la nostra rete dal collega Luciano Piscaglia documentario che ha aperto le celebrazioni per l'anniversario dell'ecidio di Boves il primo eccidio nazifascista in Italia che il 19 settembre 1943 costò la vita a 23 persone la distruzione di buona parte del paese ad opera di un reparto delle SS in quel giorno furono uccisi anche i due sacerdoti del paese Don Giuseppe Bernardi e Don Mario Ghibaudo che non abbandonarono la loro comunità e dei quali è in corso la causa di beatificazione Vengono molto ricordati specialmente qui a Boves ma anche nell'ambito di tutta la diocese di Cuneo io vorrei proprio che la loro memoria possa essere da stimolo per tutti ma è stata anche una storia di una comunità che non si è fermata e che man mano con gli anni ha capito che all'odio si risponde solo con la riconciliazione, col perdono Ai due sacerdoti è dedicato il documentario Semi di speranza per la memoria viva della loro testimonianza oggi è in corso un abbraccio di riconciliazione tra Boves e Schondorf il paese tedesco in cui è sepolto il maggiore Piper responsabile dell'eccidio del 1943 un cammino secondo il sindaco di Schondorf Alexander Herrmann che deve continuare Lancieremo anche il percorso di un gemellaggio lo suggeriremo con il consiglio comunale quindi con la cittadinanza onoraria e ci sarà anche una sorpresa per i nostri amici tedeschi che sarà quello di un albero della riconciliazione il documentario Semi di speranza andrà in onda questa sera alle 22.50 sulla nostra rete da non perdere il telegiornale finisce qui grazie per averci seguito buona domenica grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.